Bentornati a Social Economy, il nuovo programma di Mediaterronia che mette in luce le realtà del terzo settore, in particolar modo quelle che cercano di trovare delle soluzioni sociali e comunitarie a quelli che possono essere dei problemi economici. Oggi parleremo della Tagessmutter che è un servizio di assistenza all'infanzia. La Tagessmutter è una figura professionale che svolge la propria attività all'interno del proprio domicilio e appunto di assistenza per i più piccoli. Tagessmutter vuol dire proprio mamma di giorno ed è un termine tedesco. Il fatto che sia un termine tedesco ci rimanda alla questione che si tratta di una figura nata nel nord Europa negli anni 60 e che poi si è diffusa nei decenni successivi in altre zone dell'Europa e in Italia successivamente. Più di recente anche nel sud Italia. Infatti nella città di Cosenza è nata da qualche anno l'associazione Tagessmutter, gli nidi delle mamme e a tal proposito abbiamo incontrato la presidente nonché la coordinatrice pedagogica Margherita Fortebraccio e insieme a lei andremo a capire meglio la natura e lo scopo di questa associazione. Vediamo l'intervista. Siamo con Margherita Fortebraccio, presidente dell'associazione Tagessmutter in nidi delle mamme e anche coordinatrice pedagogica. Salve. Salve. Allora chi è la Tagessmutter e cosa fa? Allora la Tagessmutter è una donna che apre le porte della sua casa e accoglie un massimo di cinque bambini dai tre mesi ai tre anni. Le attività quindi si svolgono in un contesto domiciliare. È una donna formata, noi ci teniamo a dirlo perché frequenta un corso di formazione iniziale, quindi una formazione iniziale di 400 ore dove acquisisce delle strategie educative e la sua formazione non finisce col corso ma continua con una formazione permanente fatta da diversi esperti tra cui soprattutto la pedagogista e la psicologa. Quindi è una donna che lavora autonomamente nella propria casa ma viene sostenuta appunto sia da questa formazione ma anche due figure che sono la coordinatrice territoriale che si occupa di tutta quella parte burocratica perché noi teniamo anche che sia fatto tutto bianco sul nero quindi con la massima trasparenza e la coordinatrice invece pedagogica che sostiene la Tagessmutter nel lavoro poi con i bambini stilando dei programmi e dei progetti educativi. Quali sono le principali attività che vengono fatte con i bambini? Essendo in un contesto domiciliare tutto quello che accade è avvenimento educativo quindi accanto alle matite, ai colori, alle costruzioni che sono giochi tipici del nido abbiamo anche quello che accade in una casa quindi si prepara insieme il pranzo. Noi parliamo di pedagogia quindi della domesticità, si sbuccia e si lava la verdura insieme, si fanno i dolci, la pizza insieme ma anche quello che avviene durante le attività del nido. Ad esempio il trascorrere delle stagioni si guardano dalla finestra cioè il bambino impara dalla realtà vera, dalla realtà quotidiana. Quella della Tagessmutter è una figura professionale vera e propria, una figura che ha svolto una sua formazione professionale e che nella propria attività si occupa non solo di una semplice osservazione o custodia del bambino né di un semplice intrattenimento diciamo, ma si tratta di una serie coinvolta con il bambino in una serie di attività ben organizzate e studiate. Ma infatti sembra anche fondamentale l'ambiente nel quale vengono svolte queste attività che come abbiamo detto è una casa vera e propria. Ma cerchiamo di capire l'importanza dell'ambiente e l'importanza di svolgere queste attività all'interno di un ambiente appunto casalingo sempre attraverso le parole della nostra Margherita. Proprio a proposito del nido e della casa, quanto è importante l'ambiente familiare e casalingo per un bambino? L'ambiente familiare è molto importante perché il bambino vive il distacco meno drammatico rispetto al distacco che può avvenire da una casa a una struttura perché il contesto è un contesto appunto simile alla propria casa. Gli oggetti, i profumi, gli odori ricordano un po' la casa propria e quindi questo permette al bambino di raggiungere delle conquiste con molta più sicurezza. Partiamo anche dal fatto che noi ci rifacciamo un po' alla psicologa appunto Nelson che riteneva che il contesto della casa, cioè il contesto fisico, è un contesto forte educativo perché il bambino appunto attraverso poi l'attenzione di un adulto che si prende cura di lui e che ha portata di udito e di sguardo dà la possibilità appunto al bambino di poter imparare e di raggiungere delle conquiste. Anche perché per noi il principio fondamentale è che il bambino possa conoscere se stesso e l'ambiente attraverso un'autonomia perché sarebbe semplice organizzare tutto prima, fare che ne so prima la pasta o prima l'attacchismutter, prima che arrivi i bambini prepara tutto e poi si dedichi completamente a loro. Invece il fatto di fare insieme fa sì che il bambino si senta stimato dall'attacchismutter perché è come se lui partecipassse all'andamento positivo del nido, cioè al fatto che le attività vengono fatte assieme, quindi si cucina assieme, si prepara il pranzo insieme e questo accresce l'autostima nei bambini. Sembra che il servizio reso dalla figura della Tagheismutter sia diverso rispetto a quelli che si conoscono solitamente per quanto riguarda l'assistenza all'infanzia. Infatti si tratta di un'attività che diciamo sia in un ambiente familiare, perché è un domicilio vero e proprio, una casa vera e propria, ma ha un carattere anche ludico e formativo. Ma infatti sembra che i bambini apprezzino molto le attività che vengono svolte dalle Tagheismutter e anche perché rappresentano qualcosa di non solo educativo ma anche molto interessante. Però vediamo anche come le famiglie hanno potuto accogliere questa nuova figura. E vediamo anche le difficoltà che sono state incontrate. Certo, ascoltiamo sempre Margherita. Bene, sembra una figura meravigliosa. Spero che le famiglie del nostro contesto territoriale decidano di intraprendere questa scelta. Proprio in riferimento al contesto territoriale, questa è una nuova figura. Come siete state accolte e quali sono le difficoltà che incontrate proprio sul territorio? Certo, la difficoltà è il fatto appunto di creare questo nido nella casa. Quindi la paura forse è un po' di diffidenza, di una non conoscenza io dico del servizio. Allora cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto una serie di eventi dove la Tagheismutter esce fuori dalla sua casa per portare il metodo educativo all'esterno. E quindi noi abbiamo fatto una serie di eventi dove abbiamo fatto vedere proprio il nostro metodo educativo. Perché non è detto che nell'animazione noi non possiamo dimostrare le nostre finalità educative. Io dico sempre alle Tagheismutter che anche quando siamo delle animatrici siamo delle educatrici. Scegliendo dei giochi appunto che abbiano delle finalità educative. E sempre guardando i bambini che noi abbiamo di fronte. Perché per noi è molto importante il primo nostro strumento è l'ascolto. Cioè noi dobbiamo ascoltare i bambini che abbiamo di fronte e guardarli. Perché la Tagheismutter si rifà anche a quei metodi, al metodo montessoriano, al metodo anche di Amy Pickler che continuamente ci richiamano a rispondere ai bisogni dei bambini. E come facciamo a rispondere ai bisogni dei bambini se noi non li ascoltiamo e non li guardiamo? Abbiamo ascoltato la voce di Margherita Fortebraccio, presidente dell'associazione Tagheismutter i nidi delle mamme e coordinatrice pedagogica. Abbiamo ripreso un intervento dettagliato e mirato. Adesso andiamo ad ascoltare quello che è l'intervento di una giovane Tagheismutter. Quindi con una formazione più recente. E facciamo questo per capire qual è la giornata tipo di una Tagheismutter. Quelle che sono le attività in cui essa è coinvolta e che occupano il proprio tempo. Infatti, a tal proposito, andiamo ad ascoltare Elena Tommasini. Siamo con Elena Tommasini, una Tagheismutter. Ciao Elena. Allora, tu sei una Tagheismutter da quanto tempo e come mai hai intrapreso questa scelta? Allora, sono una Tagheismutter da settembre 2014, dopo aver preso la qualifica. Però la filosofia della Tagheismutter era già qualcosa che mi apparteneva. Avevo già dentro. Per questo l'ho sposata e mi trovo benissimo. Adoro fare questo lavoro con i bambini. Perché la Tagheismutter fa con i bimbi tutto quello che negli asili molto spesso non si riesce a fare per troppi bambini o per mancanza di tempo. Qui c'è un piccolo gruppo di bimbi che possono lavorare insieme, fare tante attività manuali e tante cose che si possono fare magari soltanto in casa, come i biscotti, la pasta fatta in casa oppure la dido, che è la plastilina che facciamo noi in maniera casalinga. possono giocare con tutte cose naturali e si può fare il riciclo creativo di tutto quello che si ha a portata di mano e i bimbi si divertono, sviluppano la manualità e soprattutto giocano con cose che non sono la solita plastica, che purtroppo dà poco ai bimbi a livello sensoriale. Mattia, ma sai com'era morbida quella plastilina? Era meravigliosa. Tu ci giocavi da piccolo. Sì, mi ricordo dei ricordi chiari di quella plastilina. Ma sapere che si poteva mangiare mi fa pensare che forse non avrei mangiato a chili se l'avessi saputo. Eh, ma attenzione, quella di Elena è fatta in casa. Non tutte erano così. E già da queste piccole cose si capisce quanta cura queste taglie smutters mettono nel tenere, accudire ed educare i bambini. Preparano tutto in casa. Ed Elena anche per noi ha preparato delle cose meravigliose. Qual è la giornata tipo di una taglie smutters? Quali sono le principali attività che tu preferisci fare con i bambini? Cominciamo con l'accoglienza. Il bimbo viene accolto bene o male sempre nella stessa maniera. Trova lo stesso ambiente. Trova sempre me che sono la sua persona di riferimento. E poi cominciamo intanto con giochi liberi per rientrare nella routine. E poi facciamo un'attività al giorno che io predispongo prima facendogli trovare già il materiale pronto per iniziare in modo che non perdiamo tempo e il bimbo non si annoia con i preparativi. Le attività, bene o male, sono quelle della manipolazione. Un giorno possiamo fare i biscotti, un altro giorno facciamo un altro tipo di dolce. Sempre dove loro possono partecipare. Che ne so, mettono la farina, rompono le uova, impastano con le mani. E poi, ad esempio, nei biscotti o con la dido, giocano con le formine, creano loro delle forme. E quindi sviluppano sempre la manipolazione. Anche la manipolazione fine. Fine intendiamo le piccole cose, le piccole parti. Dove il bimbo ha necessità di usare le manine, le dita, nei minimi particolari. E poi facciamo tante altre cose. Possiamo anche portarli fuori, andare a raccogliere le foglie in autunno e poi con quelle foglie creare degli animaletti. Le facciamo attaccare, dipingiamo tantissimo. Con i colori fanno di tutto. Gli acquarelli, oppure le tempere. Tutto quello che riguarda la pittura. E loro si divertono a fare le impronte con le manine. E con quelle impronte creiamo degli animaletti. E così via, insomma. Di attività ce ne sono tantissime. Persino la semplice attività di mettere una piantina nel vaso, noi la trasformiamo in un'attività che dura un'oretta perché andiamo fuori, raccogliamo la terra, torniamo qui, la mettiamo nel vaso, trapiantiamo la piantina e poi quella piantina loro la vedono crescere, la innaffiano quando c'è necessità dell'acqua e così via. Trasformiamo tutto in attività giocando. Sicuramente delle attività molto educative. Prima accennavi al fatto che molte cose vengono fatte in casa, tra cui la dido che è quella che ho qui in mano. Vorresti dirci nello specifico, ricordi per quanto riesci, come viene fatta questa? La prendiamo come esempio al momento. Certo, semplicemente con farina, olio, sale, cremortartoro e coloranti alimentari per dare un aspetto più invitante alla pasta modellabile. È semplicissima, si mette sul fuoco, si fa rapprendere e poi è pronta per il gioco. Quindi i bambini si trovano sicuramente in un ambiente familiare, sicuro, educativo e poi non c'è pericolo che se dovessero ingerire qualcosa del genere, insomma, stanno bene, cioè non hanno nessun tipo di problema. Non c'è niente di chimico, è tutto naturale, è anche commestibile. Certo, non gliela facciamo mangiare, però se dovesse succedere non è un problema. Grazie Elena, in bocca al lupo per la tua attività con i tuoi bimbi. Ridiamo la linea allo studio. È chiaro che la figura della Tag & Smooth, da quello che abbiamo capito, è una figura professionale vera e propria, qualificata, anche da questi piccoli dettagli, per esempio, capiamo che, diciamo, c'è uno studio. Insomma, una figura che sa come impiegare le ore delle proprie attività. Ma c'è da domandarsi a questo punto, come si diventa Tag & Smooth? Cosa bisogna fare? A chi rivolgersi? A Cosenza? Ce lo dice la nostra Margherita, come si può diventare Tag & Smooth? Come si fa per diventare una Tag & Smooth? Dove bisogna rivolgersi e cosa bisogna fare? Allora, per diventare una Tag & Smooth bisogna rivolgersi. In questo momento la cooperativa Opla fa un corso che viene promosso dalla provincia di 400 ore. Quindi il consiglio che io do è di andare in cooperativa e prendere tutte le informazioni possibili riguardo appunto al corso. Ringrazio Margherita Fortebraccio per la sua disponibilità e ridiamo la linea allo studio. Sappiamo adesso che esiste una nuova figura professionale nel nostro territorio, quindi anche un nuovo servizio e lo abbiamo capito dalle interviste che abbiamo ascoltato. Quindi sappiamo che esiste questa figura, quelle che sono le sue caratteristiche e i suoi aspetti principali. Bene, ci fa piacere e quindi vi vogliamo informare che per chi fosse interessata, perché ripetiamo è una figura solo femminile, puoi chiamare la cooperativa Opla al numero 0984 48 24 40 e in bocca al lupo per chi volesse intraprendere questa attività. Noi concludiamo anche questa puntata, vi diamo appuntamento alla prossima, ringraziamo ancora una volta il Cavern Club e ci vediamo con un prossimo argomento a sorpresa. Ciao! Ciao!